Asso di spade, questa è la carta pescata per i prossimi sette giorni, queste sono le energie che ci accompagneranno per la prossima settimana. Ora, ogni volta che pensi ad un asso, sia che sia di spade, di coppe, di denari o di bastoni, devi pensare a un'energia entrante. C'è chi lo pensa come un contenitore, chi come l'avvio di qualcosa, altri ancora come se il tarocco stesse un po' delimitando il campo, per esempio l'asso di denari è il campo materiale, bastoni può essere quello creativo, coppe possono essere le emozioni e spade è l'intelletto. Quindi, asso di spade, grandissima ondata potenziale di energia intellettuale, tutto ciò che ha a che fare con la tua ragione ed è per questo che per i prossimi giorni il regno dell'intelletto la farà da padrone. Forse è arrivato l'ora di potenziare il tuo intelletto, potenziare una tua idea, oppure semplicemente riformulare un progetto o un'idea che sia in grado di farti vedere una realtà in modo più importante rispetto a come tu non hai fatto fino ad oggi. Ovviamente stiamo sempre parlando dell'asso, quindi anche questa rivalutazione di un'idea o di un progetto deve essere utile a iniziare qualcosa, non tanto a portarti a grandi traguardi oppure a grandi illuminazioni. Per sfruttare al massimo il nostro potere intellettuale potrebbe essere necessario spegnere quel chiacchiericcio mentale che spesso abbiamo sotto e quindi ci confondiamo e poi ci perdiamo e poi perdiamo giornate e non abbiamo concluso niente e allora spegni, metti off a questo chiacchiericcio mentale il come lo deciderai tu, puoi concentrarti, puoi meditare, puoi fare come ti pare e solo dopo valuta che cosa emerge nella parte cosciente. Io vedo questo asso molto spesso come un segno di incoraggiamento. La mente c'è e allora dai, 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 sfruttiamola, dobbiamo essere aperti a qualsiasi input, anche ester, a qualsiasi desiderio o stimolo che ci arrivi. Cerchiamo di capire come farlo nostro, come poterlo implementare, cerchiamo di avere una centratura in quello che stiamo facendo. Per lavorare con queste energie credo che la domanda migliore da fare sia come posso abbracciare con maggior fiducia le mie nuove idee. Domani faremo insieme il tiraggio della settimana, mentre se vuoi approfondire questa carta con vari significati oppure vedere se c'è qualche altra frequenza che entra in risonanza con te indipendentemente dal fatto che io l'abbia detta o no in questo video clic nel link, nell'info box per approfondire l'asso di spade. A domani!